buongiorno buongiorno a tutti benvenuti siamo felici di riavere anche quest'oggi vito mancuso con noi non è acceso me l'accendete credo che non sia acceso ora così mi sentite ecco dicevo che siamo contenti di riavere vito mancuso con noi anche anche quest'oggi oggi in solitaria non so se canterà non credo chi c'era ieri sa ha visto qualcosa ha udito qualcosa che non dirà mai più e pochi uomini hanno hanno visto e oggi continuiamo la nostra ricognizione sulla pelle e la pelle dicevamo il luogo di contatto può essere il luogo delle carezze del dell'affetto può essere il luogo della ferita dove la vita viene a impattare in maniera dolorosa e le ferite richiedono balsami richiedono cure e vito oggi ci racconta le le parabole le parabole di vita ma come mai è così poco sì evito oggi ci racconta le storie di due persone un uomo e una donna che sono stati balsami per molte ferite sono etil su me albert schweitzer figure che ci sono care da sempre con torino spiritualità e dunque lascio lascio a lui la parola e alla sua voce più stentorea della mia forse dobbiamo alzare un po perché se ecco sì così bene buongiorno a tutti è un orario scolastico questo un orario scolastico e la mia sarà proprio una lezione preparata una lezione in classe ecco allora il titolo che mi è stato assegnato da armando buonaiuto con il quale l'amicizia e la stima è autentica sono autentiche ecco il titolo che mi è stato assegnato è balsami per molte ferite due punti etty hillesum e albert schweitzer questa espressione in realtà proviene da etty non da albert è un'espressione che che appunto che si trova nell'ultima pagina del suo diario l'ultima pagina del diario datata 13 ottobre 1942 nella quale appunto si legge si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite dopo lei non scrisse più su quel quaderno lo consegnò insieme ad altri quaderni che aveva compilato partire dal 41 a un'amica e quei quaderni rimasero in una soffitta cantina non so da qualche parte in una casa di amsterdam sconosciuti dimenticati fino a quando negli anni 80 capitarono nelle mani della persona giusta che cominciò a leggerli e penso che man mano che leggeva sul suo volto appariva quella stessa espressione di un cercatore d'oro quando trova una pepita o di un cercatore di funghi quando trova un porcino bellissimo o di un cercatore di tartufi e mi fermo qui con gli esempi perché dice è straordinario questo e sto leggendo delle cose straordinarie e infatti quei quaderni poi vennero pubblicati a partire dagli anni otto e trascritti era difficile capire la grafia di eti la sua scrittura ma vennero insomma trascritti pubblicati in tutto il mondo e adesso sono un classico della spiritualità contemporanea cosa vuol dire un classico come 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 definire un libro nel classico cosa significa quando voi parlate di fronte a un libro di te un classico solo perché è antico e cioè un classico è antico nel caso del diario di eti hillerson non si potrebbe dire che è antico quindi in che senso ha detto classico ma io intendo per classico non solo ciò che è oggetto di imitazione come la famosa insomma la definizione del genere che al ginnasio tutti abbiamo chi ha fatto il ginnasio ha sentito ma è ciò che contiene energia ciò che che continua a trasmettere energia ecco un classico cos'è un classico una musica classica un dipinto classico un testo classico sono quei testi che alla prima lettura al primo ascolto ti trasmettono energia alla seconda ancora di più alla terza la quarta ancora di più e diventano compagni per tutta la vita e chi di voi ha letto il diario di eti hillesum o le lettere di eti hillesum lo sa che è così lo sa che sto dicendo qualcosa che riguarda la sua esperienza perché perché quel libro sarà sempre accanto a chi l'ha letto non lo si dimentica più diventa un compagno ci si ritorna avete già capito che questa mia lezione è un po sbilanciata bassami per molte ferite eti hillesum alber schweizer beh povero alber schweizer che io verso il quale io anche io persino dedicato un libro ho un senso di 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 si come chiamarlo quella sti cos'è la stima cos'è io un giorno ho provato a chiedere a me stesso cos'è la stima è la devozione dell'intelligenza è questa la la definizione che donne la stima in un mio libro non mi ricordo neanche quale se devo essere sincero adesso devozione dell'intelligenza come da bambino io ho imparato mi ricordo la prima lezione del chierichetto di il sacrestano si chiamava guido nella chiesa di cristo re di carattere brianza non la parrocchia una chiesa periferica ci insegnò che ci sono tre tipi di riverenze c'è l'inchino c'è la riverenza c'è la genuflessione il corpo manifesta devozione venerazione disponendosi un conto l'inchino un conto è la riverenza ancora più giù adesso c'è il microfono non posso fare i gesti e la genuflessione proprio quando si così tre tipi di cos'è la stima e quando senti che la tua anima fa l'inchino la riverenza la genuflessione di fronte a un essere umano alla sua patire a suo sentire a suo creare a suo sentire ed è gratuita gli esseri umani possono comprare il consenso possono comprare il tempo possono comprare la libertà possono comprare tantissime il corpo la pelle questo è avviene degli altri esseri umani la stima no sorge spontanea dentro di noi ed è una delle cose più belle di quel del fenomeno umano la capacità di stima di riverenza sì un inchino dell'intelligenza di fronte e del cuore dell'intelligenza del cuore intelligenza e cuore che sono la stessa cosa ad un certo livello noi siamo intellectus e voluntas ma a un certo livello nella nostra profondità l'intelletto e la volontà si fondono e formano il palpitare della nostra personalità e diventa l'intelligenza buona diventa l'intelligenza che depone il calcolo o meglio lo assume lo trasferisce lo assume lo mette a servizio di qualcosa di più importante ecco ed è il centro vitale di ciascuno di noi quando l'intelligenza e la volontà si uniscono no e diventa un palpito del della mente e un ragionare del cuore capite cosa intendo dire quella proprio l'unione profonda dell'umanità quando uno nella sua profondità di una mente emozionata ecco di una mente emozionata sente l'emozione il palpito vitale di un'altra persona magari che ha vissuto cento duecento trecento mille duemila anni fa le sente lo fa proprio lo rivive lo rivive e diventi contemporaneo ecco che sorge la stima ed ecco che cos'è un classico tutte le cose che ti permettono questa comunione al di là del tempo e dello spazio con qualcosa di grande e di sublime questo è classico va bene sono cose che mi sono venute così io adesso non le avevo scritte sono era per dire l'emozione di fronte al diario di di eti hilles un sì in che senso è un classico e infatti lei continua a esserla c'è c'è un'energia curativa c'è un'energia curativa perché noi ferite balsamo per molte ferite certo le ferite ci sono le ferite fisiche e queste va bene si vedono dai graffi alle alle pallotto le ferite da ok ma ci sono le ferite psichiche e lo sappiamo ci sono parole e che poi che sono graffi ci sono parole che sono morsi ci sono parole che sono carezze eccetera e quindi e quindi leggere il diario di eti hilles un significa entrare in contatto con questo balsamo spirituale tramite le parole e parole assumono una funzione terapeutica terapeutica ti curano ci sono parole che curano ci sono parole che fanno il contrario che ti fanno ammalare tossiche così musiche che curano e musiche tossiche che ti fanno ammalare velenose è uno dei è uno dei compiti fondamentali del della della coscienza e capire quali sono le parole così come i funghi quando si va quando si va alla ricerca dei funghi ci sono quelli che da qui devi stare alla larga e quelli che invece li raccogli e poi ti nutriranno ecco è la stessa cosa vale per i libri per le musiche per le parole imparare a discernere le parole velenose dalle parole armoniose le parole terapeutiche è importante è importante è una delle come si chiama dei segreti delle condizioni per giungere al ars vivendi l'arte del vivere l'arte ci è un'arte è una tecnica arte arte tech ne dicevano gli antichi per parlare dell'arte è un sapere è un sì ma su un sapere anche noi abbiamo bisogno di un balsamo per molte ferite anche noi siamo feriti fisicamente qualcuno lo è stato magari lo è psichicamente spiritualmente penso che lo siamo tutti se qualcuno qui non si ritiene ferito non psichicamente non ha dei sì delle ferite profonde che magari sanguinano anche in questo momento nella propria psiche beh beato lui beata lei ma ma penso che non esistano persone così e coloro che e coloro che dichiarano di non avere ferite forse forse non le conoscono e hanno anche un ulteriore ferita quella della non conoscenza di sé dell'ignoranza ci sono che tipi di ferite abbiamo noi ma sono tre tipi almeno le ferite che abbiamo ci sono ferite collettive legate alla situazione specifica che viviamo il tempo il tempo che viviamo il tempo ci ferisce ci ci lenisce è un tempo ma 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 ci ferisce anche dipende i tipi di tempi che si vivono e noi da qualche tempo a questa parte da qualche anno a questa parte sembra che precipitiamo sempre di più verso una un'aggressività del tempo una mancanza di sicurezza da tutti su tutti i fronti tutti i punti di vista e non faccio esempi perché li conoscete tutti meglio di me poi ci sono ferite legate strutturalmente alla condizione umana cioè che noi condividiamo con gli antichi egizi con i sumeri con gli assiri che studiavamo all'elementare i sumeri gli assiri poi in prima media di nuovo i sumeri gli assiri babilonesi poi in quarta ginnasio di nuovo sumeria su e non si arriva mai alla contemporaneità ecco ecco se la sofferenza il dolore l'insensatezza l'ingiustizia sono cose antiche che gli umani hanno sempre avvertito dentro di sé una delle cose che io faccio è proprio quello ogni tanto di prendere in mano i testi dell'antico egitto o dell'antica babilonia rileggerli e si trovano a volte delle delle cose che sono più attuali degli editoriali dei giornali e poi ci sono le ferite personali certo ferite personali che ognuno alega o perché le sono sue o perché sono delle persone che sono la stessa cosa di lui o di lei chi di voi è genitore lo sa quando tuo figlio tua figlia sta male tu puoi stare anche bene ma immediatamente la la sofferenza altrui arriva anche la gioia arriva cioè siamo legati noi siamo anche le nostre relazioni e certe relazioni hanno un potere vorrei dire quasi assoluto su di noi sulla nostra interiorità ecco poi c'è chi chi è capace di difendersi di più chi di meno ma insomma ecco sono queste ferite particolari no io non abbiamo ferite fisiche abbiamo ferite psichiche e abbiamo anche ferite spiriti spirituali ecco sono le ferite spirituali quelle che io adesso voglio individuare perché da questo punto di vista che io vi parlerò di eti hill e sume di albert feitzer più di lei che di lui ma penso che lui sarebbe contento di fare questo senso di riverenza lui che arrivò a 90 anni di vita perché nacque nel 1875 morì nel 1965 lui che ebbe il premio nobel per la pace lui che ebbe tanti riconoscimenti tanti talenti era straordinario albert feitzer straordinario come filosofo come teologo come medico voi sapete tutti la sua storia di lui che aveva la cattedra di filosofia teologia era un grande studioso di canto e di gesù anche per questo lo sento molto vicino se sento sì mi sento molto molto vicino ad albert fa gli ho anche dedicato un libro come ho detto sento che la sua maniera di intendere la spiritualità di vedere gesù di pensare la vita è molto simile alla mia molto simile alla mia ecco però appunto lui ebbe una vita piena di riconoscimenti lei invece a 29 anni tutti voi lo sapete perse la vita ad auschwitz era il 30 novembre 1943 era nata nel 1914 quando lei nacque albert feitzer quanti ne aveva 39 e sopravvisse ancora lei altri anni insomma quindi quindi è giusto forse anche per questo e poi non solo per questo perché c'è anche un altro aspetto c'è che albert feitzer scrisse sì delle cose di filosofia di teologia ma non abbiamo nessun diario di lui abbiamo le lettere alla moglie è molto belle perché è una differenza tra i due anche l'affettività albert feitzer a quanto è dato sapere poi chi lo sa ma quanto ha dato sapere è fu una persona di una di un amore solo helen bryslau si chiamava sua sua moglie la conobbe a una festa da giovane e poi dopo un certo periodo di tempo si dichiarò e poi rimasero fidanzati a lungo come si usava un tempo e poi si sposarono e furono sempre insieme sì lui ogni tanto viaggiava un po di più in africa le rimaneva però insomma c'era veramente una sì di quelle coppie che che maturano col tempo e che sono sempre più come il vino che cose rare queste cose non è che però ci succedono ci sono e ti ilesum al contrario abbia un'affettività anche questo voi tutti lo sapete noto e turbolenta le capitò di di avere due amori nello stesso momento e ma due amori praticati anche sessualmente che con uno e con l'altro c'è una scena di aborto una scena sì e concepì il bambino dal primo dall'olandese l'altro si chiamava Julius e se voi leggete il diario trovate una pagina dove lei si rivolge al suo bambino devo averlo scritto da qualche parte qua 6 dicembre 1941 sembra di leggere le lettere a un bambino mai nato di Oriana Fallaci con la differenza che sì non lo so qual è la differenza poi ciascuno dipende voi cosa pensate di Oriana Fallaci e delle lettere a un bambino mai nato quindi io non voglio determinare però sembra no l'atmosfera è quella scrive così 6 dicembre 41 rimarrai nella condizione protetta di chi non è ancora nato e si riconoscente essere in divenire provo quasi tenerezza per te ti attaccherò con acqua bollente e con orribili strumenti ti combatterò con pazienza e costanza fin tanto che non ti sarai di nuovo dissolto nel nulla e allora sentirò di aver compiuto un'azione buona e responsabile 6 dicembre 41 e ti andava in giro con la stella gialla siamo ad Amsterdam sotto occupazione nazista ha fatto bene ha fatto male chi siamo noi per giudicare nessuno mai giudicare su queste cose mai giudicare l'interiorità umana l'interiorità l'azione sì interiorità no capite la differenza tra azione un'azione siamo chiamati a giudicare un'azione se uno ruba devi giudicare con azione poi se perché uno ruba entrare nello specifico di una persona che commette dicendo che tu sei ontologicamente un ladro sei proprio della tua natura è quella di essere uno che ruba 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 le cose ruba le persone ruba e questo no perché non lo sappiamo noi che cosa porta una persona a fare del male un conto è fare l'azione che fa del male la giudicarla un conto è chi la come la famosa differenza tra errore derrante che sempre dovrebbe guidare il nostro giudizio siamo chiamati a giudicare non è vero che non bisogna dire non giudica è vero Gesù dice non giudicare da un lato lo dice nel discorso della montagna però poi nel se voi andate a leggere il vangelo di luca se ricordo bene adesso vado in memoria capitolo 12 versetto 51 voi trovate Gesù che si rivolge ai discepoli e dice stolti perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto perché un discepolo avrebbe scusi maestro ma non sei stato tu a dire prima non giudicare quindi noi non giudichiamo etti non figuriamoci prendiamo atto di questa cosa ne facciamo tesoro per capire che ancora oggi chi compie questi drammi l'aborto rimane quello che è la soppressione di una vita è indubbio una vita nascente come lo chiama qua lei insomma questa cosa qui questo non ci sono dubbi essere in divenire ecco sei un essere in divenire se non lo tocchi diviene questo che non fai niente lo tocchi lui diviene diventerà un bambino una bambina e arriverà sul palcoscenico del mondo felice di esserci felice triste secondo comunque così è evidente che così e però c'è questa differenza appunto per cui e lei infatti dice buono e riconoscente un'azione buona e responsabile ecco lo dico perché questi giorni si è tornato a parlare di aborto cosa fare cosa non fare insomma io non lo so cosa fare se tocca a voi decidere ognuno però ho voluto insistere anche su questa cosa proprio per dare alcune indicazioni alcune indicazioni ma veniamo alla ferita perché questa è la ferita qual è la ferita di eti è la stessa nostra dico dal punto di vista spirituale ed è per questo che la sentiamo vicina la ferita di eti hill esume il non senso della vita il male della vita il male del mondo ma certo amsterdam 41 occupazione nazista amsterdam 42 certo sì lei poteva qualche però con qualche ragione in più per sentire l'oppressione del mondo il non senso del mondo ma ma lo sentiamo anche noi in un'altra forma il non senso es felt das zil scusate il tedesco mi è venuto ma ogni tanto mi vengono in le frasi le citazioni nella lingua originale sono parole di inice che dicono manca lo scopo manca lo scopo questo è sono parole antiche si fa per dire antiche insomma fine ottocento ma già lui sentiva l'ospite più inquietante che bussa alla porta il nichilismo e che cos'è il nichilismo il fatto che uno non sente perché c'è non sente che cosa deve fare di se stesso non tanto fare le cose uno lo sa cosa deve fare devo fare la cosa dove devo 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 alzarmi vestirmi lavarmi devo devo nutrirmi devo lavorare devo istruirmi devo accudire eccetera ma no ma di me del fine alla fine di tutto facendo tutto questo che cosa faccio dove vado facendo tutte queste piccole azioni io di me a chi mi consegno perché cosa ci sono cosa sono qui a fare sono sono un marchigegno di questa ruota più grande di me che si chiama società che devo mandare avanti sono solo chiamato a questo essere sempre a servizio oppure c'è una una dimensione più grande alla quale mi posso raccogliere c'è un zil c'è uno scopo c'è un fine c'è una meta c'è un senso gli antichi da quello che mi è dato conoscere avevano anche loro questo problema da sempre la condizione umana ha questo problema il problema del senso della vita del perché chiaro che sì la differenza specifica qual è tra eti illesum post moderna già in parte post moderna e e gli antichi che gli antichi non so parlo di platone parlo di plotino parlo di agostino parlo del cristianesimo parlo insomma combattevano il non senso non lo assumevano per la gran parte non lo assumevano lo combattevano frontalmente istituendo un dualismo essere non essere bene male il peccato il peccato il diavolo cioè il non senso questo ospite inquietante il nichilismo veniva come reificato cioè personificato e contrapposto al senso e contrapposto al bene contrapposto alla giustizia dualismo dualismo metafisico che poi diventa anche fisico pelle diventa anche un dualismo per cui esiste qualcosa di buono l'anima lo spirito è qualcosa di meno buono addirittura di cattivo addirittura di intrinsecamente malvagio il corpo le tensioni del corpo il desiderio del corpo la pelle il desiderio di essere accarezzato di toccare l'altra pelle e quindi e quindi e quindi questa scissione 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 la grandezza di eti hillesum è il vedere il non senso e non combatterlo frontamente frontalmente ma assumerlo e adesso sentirete le sue parole lo assume non ci sono il bene il male come due regni due domini dio da un lato satana dall'altro e poi di conseguenza ciò che strumento di dio cioè l'anima e ciò che strumento di satana cioè il corpo di cui la pelle è appunto la manifestazione primaria ecco no non c'è questo c'è un unico processo che si fa attraversando passando anche attraverso il negativo un unico processo diario di eti hillesum 3 luglio 1942 la vita e la morte il dolore e la gioia le vesciche ai piedi estenuati dal camminare e il gelsomino dietro casa le persecuzioni le innumerevoli atrocità tutto tutto in me come un unico potente insieme come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio poco dopo nello stesso giorno è vero ci portiamo dentro proprio tutto dio e il cielo l'inferno e la terra e la vita e la morte e i secoli tanti secoli tanti secoli siamo antichi tanti secoli ci portiamo dentro tutto in una lettera perché voi sapete eti di eti hillesum abbiamo il diario che si conclude nel giorno che ho detto 13 ottobre 42 poi però abbiamo delle lettere perché immagino che tutti voi lo sappiate ma insomma per chi non lo sapesse a questa giovane donna venne data la possibilità perché era giovane perché era bella perché era una famiglia importante perché non lo so per quale motivo di entrare a far parte del consiglio ebraico come datilografa che cos'è il consiglio ebraico è l'organo di governo che i nazisti istituivano nelle varie città per governare la comunità ebraica destinata a essere annientata naturalmente ma con metodi e tempi e che quindi tutto questo richiedeva un certo governo insomma e per governare direttamente i nazisti che non erano stupidi erano molto malvagi ma non erano completamente stupidi o erano stupidità la potenza ma insomma la tattica la conoscevano è meglio che siano gli ebrei stessi a governare gli ebrei così le nostre indicazioni e per questo in ogni città istituivano un consiglio ebraico un organo fantoccio insomma chiaro un governo fantoccio per e lei entrò a far parte come datilografa di quei che significava sicurezza relativa certo ma sicurezza perché insomma sarebbe stata l'ultima cosa ovviamente ad essere annientata insomma quindi significava anche un lavoro comodo dietro la scrivania al caldo insomma cose logiche no? beh ci rimase una settimana otto giorni poi disse scusate io qui no voglio andare a Westerbork e immagino che tutti voi sappiate che cos'è Westerbork è un campo di concentramento proprio nel senso nel senso sì tecnico perché i nazisti avevano tre tipi di campi un campo di primo concentramento insomma così che si chiamava Durgangslager poi un campo di concentramento molto concentrato concentrazione slager e infine avevano i campi di sterminio Fernichtunslager campi di sterminio Auschwitz sterminio ecco lei passa dal terzo tipo di lager Westerbork all'ultimo Auschwitz bene e lei dice voglio andare volontaria a Westerbork nel senso che arrivavano gli ebrei donne, bambini, uomini, vecchi, anziani tutti insomma quelli che arrivavano e bisognava che ci fosse qualcuno naturalmente per accudirli e lei questo faceva come chiamarla assistente sociale bene in questo periodo noi abbiamo il diario è finito e concluso nel senso che non ha portato conseguenza però scriveva delle lettere sono altrettanto belle ma sì belle energia ecco belle in quel senso lì energetiche vitaminiche ecco di quella vitalità dello spirito che combatte il nichilismo assumendolo il gessomino hai le vesciche ai piedi vedi tutte queste cose terribili eppure eppure non ti dimentichi del gessomino non ti dimentichi del sole che splende non ti dimentichi di Sofocle non ti dimentichi di Agostino non ti dimentichi dei grandi grandi uomini e le grandi donne del passato non ti dimentichi di Antigone che rispose a Creonte sono nata per servire l'amore non l'odio Antigone è figura meravigliosa ebbene in una lettera da Westerbrook datata 11 agosto 43 si legge così le cose sono dovunque completamente buone e al tempo stesso completamente cattive così si bilanciano dovunque sempre io non ho mai la sensazione che debbo volgere qualcosa in bene tutto è sempre e completamente un bene così con me ogni situazione per quanto miserevole è qualcosa di assoluto e contiene in sé il bene come il male per me questo è il vertice della visione del mondo in questa giovane ragazza io ritrovo in queste parole io ritrovo una sapienza antica ritrovo il Tao ritrovo le migliori pagine di Platone non le alcune dualistiche ma le migliori quelle appunto che superano anche il dualismo ritrovo le migliori pagine di Kant ritrovo le migliori pagine di Hegel perché tutto questo pensiero ha senso nella misura in cui serve la vita l'emozione vitale noi abbiamo bisogno di entrambe le cose non è vero che non abbiamo bisogno del pensiero e dei filosofi e dei teologi almeno per quanto mi riguarda ma i filosofi e i teologi fanno bene il loro mestiere nella misura in cui sono al servizio della vita e danno parole alle emozioni vitale ma quando qualcuno anche senza sapere di filosofia e di teologia come nel caso di Etty Hillesum per quanto per quanto leggesse studiasse Agostino Rilke il suo amatissimo Rilke Rilke non era un teologo era un poeta ma insomma va bene ci intendiamo Dostoevsky adesso parlerò di Dostoevsky quanto è importante Dostoevsky la madre di Etty Hillesum era russa ebrea russa lei conosceva bene il russo tant'è che ad Amsterdam fece anche delle lezioni nell'università popolare di Amsterdam delle lezioni di russo leggeva quindi Dostoevsky soprattutto Dostoevsky le amava più di altri nell'originale ecco quando queste persone arrivano attraverso una pagina di letteratura attraverso una pagina di musica sanno cogliere la dimensione vitale questo creano quel materiale che poi il pensatore che arriva dopo perché la nottola di Minerva si alza sempre sul far della sera come scrive Hegel nella prefazione alla fenomenologia del diritto indicando appunto la nottola di Minerva cioè la filosofia arriva sempre dopo che il giorno si è quasi concluso sul far della sera però è necessario che sorga per vedere e per disporre per mettere in ordine per creare un sistema per dare ordine a eh sì e per poter dare una filosofia di vita per poterla istituire un sentiero su cui camminare quindi le cose vanno in armonia c'è bisogno di questo però appunto originariamente chi arriva per primo non è il filosofo il teologo che arrivano sul far della sera ma sono i poeti i santi i mistici i navigatori dello spirito che arrivano prima e che dicono terra e che vedono sì Etti è lo Stato lo è è per quello che leggere una sua pagina vale di più che non leggere pagine di pensatori secondo me perché sono più immediate più profonde nel senso più profonde nel senso più vitali cioè proprio è come vedere un fenomeno proprio quando sta sorgendo capite proprio vederlo vederlo nella situazione vitale ecco ecco che ecco che che è sorto poi certo il compito del pensiero di riconoscerlo di istituirlo di inquadrarlo ogni situazione per quanto miserevole è qualcosa di assoluto e contiene in sé il bene e il male Tao Te Ching questo è il Tao Te Ching Lao Tse cioè Eti coglie lucidamente la contraddizione del reale la coglie lucidamente e dove sta lo specifico perché perché Eti è un balsamo ecco perché fin quando ti metti a cogliere questa contraddizione questa antinomia usiamo la parola giusta antinomia scontro tra due nomos tra due leggi entrambe effettive fin quando ti metti a cogliere questo beh puoi rimanere inchiodato e persino disperato occorre uno scatto diverso occorre l'utopia occorre la speranza la generosità del pensiero del cuore occorre e infatti lei dice nota 5 diario 11 gennaio 1942 scrive a se stessa bisogna osar dire che si crede osar pronunciare il nome di Dio è sempre nel diario 23 giugno 42 martedì mattina scrive così il dolore mi ha insegnato che si deve poter condividere il proprio amore con tutta la creazione con il cosmo intero il prezzo di quel biglietto di ingresso è alto e pesante e lo si guadagna risparmiando a lungo con sangue e lacrime ma nessun dolore e lacrime sono troppo cari per questo io penso che molti di voi sentendo la parola l'espressione biglietto di ingresso abbiano fatto un collegamento penso che molti di voi abbiano pensato stiano pensando a chi a Dostoevsky ai Karamazov e in particolare alle parole di Ivan Karamazov quando rivolto al fratello credente al giovane Alyosha Ivan dice ma guarda non è che io rifiuti Dio quello che io rifiuto è il mondo è l'opera di Dio questo mondo perché richiede troppo sangue e anche solo le lacrime di una bambina innocente poi vi ricordate tutti gli esempi perché ha letto quella pagina meravigliosa letto riletto a proposito di libri che contengono energia dei Karamazov rifiuto il biglietto e io ricordo di aver letto da qualche parte che il fratello del grande compositore Gustav Mahler il fratello si suicidò e accanto al corpo al suo cadavere lasciò un biglietto con scritto rifiuto il biglietto infatti se voi leggete Karamazov parte quinta paragrafo paragrafo 5 le parole di Ivan Karamazov sono l'ingresso costa troppo caro per le nostre tasche perciò mi affretto a restituire il mio biglietto d'ingresso allora tu vedi l'antinomia vedi bene il male e capisci che questo tuo bene e male che vedi queste ferite che porti che senti tue e altrui ma possono essere così altrui che diventano anche tue quasi perdi la pelle non hai più la pelle le ferite degli altri le senti e ti graffiano e le porti e le porti vi è mai capitato di stare bene di sentire di dover piangere per esempio leggendo Primo Levi tanto per parlare di un grande di un grandissimo torinese ecco tutto questo uno sente queste cose e cosa fa o rimani inchiodato oppure senti e dici il biglietto è troppo caro me ne voglio andare e alcuni nobili spiriti se ne vanno ieri sera qualcuno di voi c'era nel dibattito con Alessandro Bergonzoni ho citato Alexander Langer ma altri ottime ottime persone che sentono il peso del mondo diventare insopportabile e restituiscono il biglietto d'ingresso oppure oppure sorge questa da dove viene questa possibilità di dire sì il biglietto d'ingresso da dove non lo so questa si chiama grazia sapete questa è grazia poi uno può pensare che ci sia Dio l'altro che sia Fortuna la Fortuna la Dea Fortuna degli antichi la Dea Fortuna vi ricordate come gli antichi raffiguravano la Dea Fortuna calva femmina naturalmente calva tranne un ciuffo di capelli così che stava su su un come gli acrobiti del circo che stava su un pallone la Dea Fortuna quindi assolutamente instabile calva però un ciuffo la puoi prendere ma appena la prendi in gira insomma la Fortuna insomma o è la Fortuna o è Dio o è la Grazia l'elezione Agostino avrebbe parlato di elezione la predestinazione i pochi eletti così o così così è il crocifisso normale così è il crocifisso giansenista cioè di giansenio il quale aveva scritto un libro l'unico libro Augustinus e diceva appunto che Agostino era tutto e conteneva tutto e perché è così? perché la Grazia è per pochi l'elezione è per pochi sono pochi gli eletti lo dice anche Gesù nel Vangelo eh non lo so pochi tanti domanda difficilissima ed è una delle antinomie che io mi porterò sempre perché appunto la Grazia di voler riscattare se stessi di voler vivere per il bene per la giustizia di nutrirsi di cose belle sembra essere appannaggio di pochi perché pochi leggono i libri di Etty Hill esume tantissimi leggono quei best seller non voglio fare nomi perché e comunque lei dice quello che vi ho detto nessun dolore e lacrime sono troppo cari per questo il biglietto il prezzo di quel biglietto d'ingresso è alto e pesante lo si guadagna ma nessun dolore non si guadagna con sangue e lacrime ma nessun dolore e lacrime sono troppo cari per questo anche Albert Schweitzer ebbe questa esperienza profonda dell'antinomia vi leggo un suo brano che trovate in un libro del 1921 che ai suoi tempi fu un vero proprio best seller oggi non si trova neanche in commercio perché mentre Etty Hill esume si si trova in commercio libri economici entrate in qualunque libreria più o meno qualunque la trovate i libri Albert Schweitzer sono scomparsi io ho tentato con qualche editore di dire di fare o anche in una collana che pubblicavo scusate che curavo ho pubblicato un suo libro ma non è servito a niente insomma è così è passato non so perché in Italia naturalmente così non è in Germania così non è in Francia così ma insomma in Italia va bene insomma in questo libro dal titolo dove comincia la foresta vergine vicende e riflessioni di un medico nell'Africa equatoriale francese voi potete leggere la pagina 149 di questo libro edito dalle edizioni di comunità quelle di Adriano Olivetti non a caso quanto segue nell'ultima capanna un uomo giaceva al suolo con la testa quasi sepolta nella sabbia mentre le formiche correvano sul suo corpo era un indigeno colpito dalla malattia del sonno che era stato abbandonato dai suoi probabilmente da più giorni perché non potevano più trasportarlo benché respirasse ancora non vi era più nulla da fare intanto che mi occupavo di lui attraverso la porta aperta della capanna contemplavo le acque azzurre del golfo contornato da verdi foreste mentre il sole al tramonto diffondeva ai suoi raggi di fuoco era un panorama di magica bellezza ma abbracciare con un solo sguardo tale paradiso e l'orribile miseria dell'essere umano era una cosa che agghiacciava il cuore siamo all'antinomia anche Albert Schweitzer vede tutto e non vede il peccato non vede il peccato vede la sofferenza innocente nella bellezza della della natura nella bellezza quasi magica della natura vi leggo un altro brano di Albert Schweitzer è il momento nel quale nasce in lui l'etica del rispetto della vita perché Albert Schweitzer un giorno si chiese è possibile avere un concetto riassuntivo di tutto ecco lui oltre a essere un medico voi sapete Albert Schweitzer appunto l'ho già detto sapete anche che era un organista di fama internazionale che veniva chiamato per eseguire all'organo le musiche di Johann Sebastian Bach incise incideva anche per la deutsche gramofon e così via insomma è una persona di grande di grande talento anche da questo punto di vista sapete che lasciò tutto per andare a fare il medico nel all'ambaranè dove fondò un ospedale specializzato in malattie infettive e va bene questo questo l'azione però anche il pensiero perché era un filosofo era un teologo e poi essendo un musicista e penso che soprattutto bacchiano tutto questo portava al bisogno di una di una sintesi al bisogno di una sì di un concetto generale che potesse abbracciare e quindi spesso lui nei suoi scritti dice sono alla ricerca di una di una visione di un concetto riassuntivo e un giorno racconta come arrivò questo concetto riassuntivo si trova su un viaggio sul fiume Ogoyer non lo so dove sia questo fiume Ogoyer insomma da quelle parti Gabon da quelle parti perché l'ambaranè nel Gabon vede quattro ipopotami con i loro piccoli e vedendo gli ipopotami con i loro piccoli sul fiume lui sul piroscafo medico che sta andando a portare delle medicine in un altro posto dice così in quel momento nonostante la grande stanchezza e lo scoraggiamento mi venne in mente improvvisamente l'espressione rispetto per la vita che per quanto io sappia non avevo mai sentito nel letto compresi subito con chiarezza che questa etica elementare e completa possedeva una profondità totalmente diversa dall'etica che si occupa soltanto del rapporto tra esseri umani e anche una vivacità completamente diversa e un'energia totalmente nuova con l'etica del rispetto per la vita entriamo in un rapporto spirituale con l'universo Erfurt vor dem Leben e questa è l'espressione tedesca che qui viene tradotta rispetto ma ecco torna buono quanto vi dicevo del sacrestano la prima della lezione che mi fece da bambino su come fare il chiarichetto i primi rudimenti ecco il rispetto è ciò che ti porta a fare un inchino Erfurt dicono coloro che sanno il tedesco molto meglio di me è più di rispetto c'è una dimensione di riverenza che viene anche dal timore perché in questa parola Erfurt c'è un verbo che richiama al timore al timore reverenziale è come quando sei di fronte a qualcosa che ami e che al contempo di cui hai timore di poter fare del male che è più grande è qualcosa di molto vicino al sublime capite la differenza tra bello e sublime il bello il bello lo contempli ma il sublime è qualcosa che entra più profondamente dentro di te perché ti mette anche timore come appunto la grande bellezza ti fa sentire piccolo indegno è qualcosa di fatti Kant parla del sublime definendolo piacere negativo ecco Erfurt Foa del Leben tu di fronte alla vita senti questa espressione di una di una di sì di un del fatto che ti devi che ti devi inchinare ma di più fare la riverenza riverenza verso la vita riverenza verso la vita questa è la e quindi e quindi lui dice che c'è una formula c'è una formula che è in grado di mettere me stesso il mio cuore la mia intimità in un rapporto autentico e vero con l'esistenza la cercava la cercava indagava e alla fine è arrivata sul fiume sul piroscafo alla vista degli ipopotami e rispetto per la vita riverenza verso la vita e lui dice bisogna bisogna è del 1921 questo cento anni fa bisogna superare l'antropocentrismo bisogna superare quella dimensione etica per cui l'etica è semplicemente comportarsi bene tra esseri umani e probabilmente aveva in mente Kant il quale nell'imperativo categorico dice agisci in modo tale da trattare l'umanità sia nella tua sia nell'altrui persona sempre come fine ma è soltanto come mezzo ma cosa dice l'umanità dice Kant l'umanità e Schweitzer dice no non è solo l'umanità e per quanto è possibile è la vita a partire da quella degli ipopotami a partire da quella degli alberi la vita infatti ci sono delle sue fotografie con i gattini con gli animali bellissimi lui che scrive così va bene chissà se Kant anche lui aveva un gatto più probabile di no i biografi non ne parlano 1921 io ho preparato troppe cose qua e già diventa tardi però un brano di alberi feitzer ve lo leggo e poi torno a eti e poi concludo dunque avete sentito questo brano del 21 come profetico già nel 1921 alberi feitzer diceva bisogna superare l'antropocentrismo e diceva che appunto questo senso di reverenza verso la vita era tale da superare l'antropocentrismo oggi molti lo ripetono bisogna secondo me non cadere nell'eccesso opposto perché molti ripetono superare l'antropocentrismo quasi a dispetto e in odio rispetto agli esseri umani ecco a me è capitato di avere dibattiti e incontri con sentire proprio un livore un'aggressività nei confronti della specie umana ci sono ragioni certo per detestare gli umani quello che stanno facendo al pianeta e anche quello che stanno facendo tra di loro la tecnica che diventa sempre più impellente la tecnocrazia l'intelligenza artificiale le macchine che diventano umanoidi il rischio che noi diventiamo macchine gli umani diventano macchine macchinari meccanismi tutto questo c'è e quindi uno vorrebbe dire io preferisco stare molto di più tra le piante gli animali c'è innocenza gli umani sono perfidi sono abissali ti dicono delle cose ne pensano altre tradiscono mai visto un animale tradire mai visto una pianta tradire tutto vero però gli animali tradiscono gli umani tradiscono anche nel senso che trasmettono tradere nel senso di tradizione trasmettono tradere trade commercio tradizione consegnano e ti consegnano per esempio la figura di Etty per esempio la figura di Albert per esempio la musica di Johann Sebastian Bach per esempio per esempio per esempio ognuno trovi le sue fonti di energia quindi bisogna superare l'antropocentrismo senza cadere secondo me secondo me nell'eccesso opposto e sapere e sapere che quella collocazione che gli antichi avevano dell'essere umano che è effettivamente il centro del mondo microcosmo e macrocosmo è vera è vera siamo chiamati a questa responsabilità l'unica maniera è esattamente quella di superare questa crisi che noi stessi abbiamo chiamato non è quella di denigrare noi stessi perché siamo noi i protagonisti nel bene e nel male siamo noi che ci dobbiamo convertire ed è quello di riscoprire che il vero ruolo dell'essere umano è quello di essere colui che sintetizza tutto dicevano gli antichi attraverso la sua intelligenza attraverso la sua bontà e si mette a servizio quindi non è più un antropocentrismo nel senso egoistico del termine vorace ma è un antropocentrismo che è servizio servizio per le foreste servizio per gli animali servizio perché ci sia sempre meno dolore alla fine sempre meno sofferenza per quanto possibile mettiamola al negativo nel senso proprio positivo del termine negativo pensiamo che cosa devo fare che cosa posso fare forse non siamo in grado di pensare cosa posso fare siamo troppo sballottati troppo confusi pensiamo invece che cosa non dobbiamo fare ferire il meno possibile creare meno sofferenza possibile a noi stessi e agli altri all'ambiente all'aria all'acqua eccetera eccetera questo si può fare ma questo lo si fa lo si può fare solo se si prende consapevolezza del nostro valore capito del nostro valore infatti perché Etty e Albert Schweitzer sono un balsamo per molte ferite perché tu leggendole attieni energia cioè senti che puoi valere che puoi fare qualcosa che puoi fare qualcosa che puoi lavorare su te stesso e sugli altri che non è vero che siamo solo male che non valiamo niente che siamo sì c'è tutto questo c'è ma c'è anche la possibilità di superarlo se ci nutriamo delle cose giuste dei libri giusti della musica giusta se facciamo silenzio se ci raccogliamo se ci coltiviamo se ci puliamo puliamo non solo facendo la doccia ma anche facendo la doccia interiore capite la doccia come la chiami la doccia interiore che toglie le sporcizze di dentro chiamala come ti pare qualcuno andrà dal prete a confessarsi qualcuno guarderà il cielo e si confesserà così qualcun altro non lo so ma quello importante è che ti fai la doccia capito dentro dentro che ti lavi ti purifichi e sentite due anni dopo nel 1923 cosa dice Albert Schweitzer non hanno neanche 100 anni parlano dei nostri giorni queste parole sue con la rivoluzione prodotta dalle macchine la maggior parte di noi è sottoposta a un'esistenza lavorativa troppo regolata troppo angusta troppo faticosa l'autodeterminazione e il raccoglimento interiore sono diventati difficili la vita familiare e l'educazione dei figli danno segni di sofferenza tutti in qualche misura corriamo il rischio di diventare cose anziché persone i molteplici danni materiali e spirituali causati all'esistenza umana rappresentano dunque il lato negativo delle conquiste della scienza e della tecnica 1923 quando si dice l'intelligenza e il cuore quando si dice la capacità di vedere sembrano parole scritte oggi di una naturalità sorprendente va bene io concludo con Etty Hillesum con alcuni brani che sì che vi consegno i suoi per dire che siccome siamo a Torino spiritualità per dire che attraverso Albert Schweitzer e attraverso Etty Hillesum nasce una nuova spiritualità di Albert Schweitzer mi limito a dirvi Gesù perché lui scrisse nel 1906 un libro su Gesù o meglio su coloro che si sono occupati che si occuparono fino a quel tempo di Gesù di un'importanza sì notevole stavo dicendo mondiale dico ma forse è esagerato dire mondiale ma diciamola pure mondiale ho sentito la storia della ricerca sulla vita di Gesù e lui mostra nel 1906 come tutti coloro che hanno parlato di Gesù hanno sbagliato perché non hanno parlato del Gesù storico ma di coloro che ma scusate ma di colui che secondo loro era il Gesù storico ma la vera secondo Albert Schweitzer la vera caratteristica del Gesù storico cioè su essere un profeta apocalittico era stata tacciuta dai più e quindi lui entra in un rapporto diverso con Gesù non è più il figlio di Dio l'agnello immolato che deve morire ma diventa così diventa sentite queste sue parole l'essenziale del cristianesimo come annunciato da Gesù e come viene affermato dal pensiero è che possiamo avere comunione con Dio soltanto attraverso l'amore tutte le conoscenze viventi di Dio rimandano al fatto che noi lo sperimentiamo nel nostro cuore come volontà di amore ecco questa era la questione di fondo ma la va bene va bene sono un po' in difficoltà in questo momento perché sento che dovrei dire tante cose per spiegare meglio questa cosa ma il tempo ormai sono le 11.08 sta finendo e quindi mi fermo qui su Gesù e Albert Schweitzer concludo con Etti va bene adesso non è domenica mattina è sabato mattina ma immaginatevi lo stesso in una domenica mattina diario di Etti 12 luglio 1942 preghiera della domenica mattina così lei lo scrive mio Dio sono tempi sono tempi tanto angosciosi cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me ma basterebbe questo sapete qui va avanti affinché tu non venga distrutto cosa vuol dire distruggere Dio dentro se stessi lei era si definiva la ragazza che non sapeva inginocchiarti non era battezzato ovviamente era ebrea ma non era neanche ebrea nel senso religioso del termine non era osservante non era osservante dal punto di vista diciamo religioso nel senso di andare in sinagoga osservare la cashrutta e cose del genere ma vi ho detto anche della sua vita sessuale della sua vita affettiva era una donna libera e tuttavia sentiva che la sua libertà aveva bisogno di una prodo che la libertà non è fatta per essere se stesse per 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 non è un assoluto è un relativo nel senso che vive la libertà come relazione io sono libero ma una volta che sono libero una volta che sono libero io devo liberamente dedicarmi devo liberamente consegnarmi devo liberamente abbracciare direbbe Alessandro devo dire devo sì e facendo questo la mia libertà si compie la libertà è un processo complesso è anzitutto liberazione libertà da poi diventa libertà di in quanto decisione ma si compie come libertà per e libertà con come consacrazione come dedizione allora la libertà si compie è un essere il cuore il cuore è contento quindi è di cosa è di parlando di Dio di cosa si parla parlando di Dio si parla dell'idea o dell'energia o della persona o da tanto tutte le parole non funzionano tutti i sostantivi non funzionano e non funzionano funzionano perché ti portano metafore ferro vuol dire portare ti portano attraverso ti portano ma alla fine se stai fermo su quella parola che ti ha portato e essendo portato pensi che allora l'oggetto stesso sia quello no no non è così sono parole che ti servono e poi le abbandoni infatti tutti i grandi mistici dopo le abbandonano e che cos'è Dio non si sa appunto è la prodo è la nube della non conoscenza per citare il titolo è la notte oscura per citare i grandi testi appunto è il nulla ma non il nulla nel senso del niente nulla nichilistico nulla nel senso del vuoto ciò che è al di là dell'essere e del non essere ciò che è tocca una dimensione dell'essere che noi non possiamo conoscere perché lo dicevo anche ieri noi qualunque cosa che possiamo conoscere qualunque ente che possiamo conoscere immediatamente suppone una negazione qui e ora qualunque cosa voi possiate vedere o pensare qualunque cosa dicendola immediatamente istituite una negazione omnis determinatio negatio appena determini una cosa dice subito che che quella cosa è questo e quindi non è anche quest'altro e quindi delimiti e quindi determini mentre il grande abbraccio il grande essere che è in tutte le cose la grande energia grazie a cui tutte le cose sono il grande grande la grande sorgente il grande porto in cui tutte le cose tornano la grande mente che pensa a tutte le cose e che e che dà forma a tutte le cose Nus lo chiamava Nassagora beh questo necessariamente deve contenere tutto e quindi è indeterminato che cosa vuol dire perdere Dio quindi non significa perdere un'idea vuol dire perdere un'energia la fede che ci sia qualcosa di vitale di bello di giusto per la quale tu ti puoi dedicare che ci sia un senso ecco il senso senso da intendersi proprio sia come significato ma anche come senso di marcia qualcosa verso cui camminare prospettiva direzione mio Dio sono tempi tanti angosciosi cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me ma a priori non posso promettere nulla una cosa però diventa sempre più evidente per me e cioè che tu non puoi aiutare noi ma che siamo noi a dover aiutare te e in questo modo aiutiamo noi stessi e in questo modo aiutiamone se tu primo passaggio non pensare che arrivano i miracoli che arriva Dio che prende e risolve è finito questa maniera di relazione con l'Eterno questa maniera miracolistica di pensare la fede come risoluzione dei problemi tappa buchi avrebbe detto Dietrich Bonhoeffer più o meno negli stessi anni scriveva queste cose qua scriveva tappa buchi Dio tappa buchi no è finito questo tempo semmai siamo noi che non dobbiamo che non dobbiamo perdere non dobbiamo come si dice seccare la sorgente dell'acqua pura rispetto a all'idea all'idealità all'energia all'utopia avrebbe detto Alessandro utopia utopia che è un non luogo e che tuttavia è il luogo verso cui tutte le migliori persone convergono diceva già Oscar Wilde diceva così Oscar Wilde nel libro chiamato l'anima dell'uomo sotto il socialismo diceva una carta geografica che non contenga l'isola di utopia non è degna neanche di uno sguardo perché è il posto in cui tutte le genti le migliori persone convergono allora l'utopia per definizione sulla carta geografica non ci può essere l'isola che non c'è tuttavia devi averla ecco l'avere una carta geografica che è più della semplice carta geografica significa esercitare la spiritualità avrai la persona materialista che riderà del fatto che tu sulla tua carta geografica è l'isola che non c'è ma chi avrà ma chi esercita chi vive una dimensione spirituale sa che quell'isola è importante che ci sia perché altrimenti è solo piattume superficie e noi abbiamo bisogno uno sente di aver bisogno di profondità o di altezza tanto è uguale già Gregorio Magno diceva altum et profundum idem sunt per dire che è ciò che trafigge la superficie e in questo modo aiutiamo noi stessi sì in questo modo non perdiamo la speranza dell'umanità tu non puoi aiutarci ma tocca a noi aiutare te difendere fino all'ultimo la tua casa in noi la tua casa in noi una giovane donna la domenica mattina ad Amsterdam sotto occupazione nazista lei ebrea scrive sul suo diario si rivolge a Dio e dice la tua casa in noi allora qualcuno potrebbe dire ma logico logico ha paura sa che il mondo esterno la sta distruggendo sa che per lei non ci sarà nulla da fare e quindi evade è un'evasione è un'illusione si crea questo rifugio intimistico e così è contenta perché altrimenti altrimenti verrebbe sopraffatta dalle cose Freud probabilmente avrebbe detto questo cosa dire è così non lo sappiamo non lo sappiamo non lo sapremo mai se la dimensione di chi ritiene cioè l'esperienza non la dell'esperienza di chi ritiene di trovare una dimensione una dimensione diversa dentro di sé rispetto alla superficie è vera oppure una proiezione consolatoria non lo sapremo mai nel senso di saperlo nel senso di conoscere di avere la certezza incontrovertibile che ti viene da sapere no quello che noi possiamo fare che la mente la ricerca spirituale può fare è andare a vedere se questa esperienza di Etty Hillesum è presente anche in altre situazioni è il lavoro che io ho fatto e se voi leggete la prima Upanishad non c'erano i nazisti nell'antica India si c'era la croce uncinata la stessa che i nazisti ripresi se voi leggete la prima Upanishad della tradizione hindù voi vedete che l'atman cioè il principio personale coincide con il brahman con il principio divino infatti si legge in verità è identico a brahman questo atman cioè il mio il mio atman il mio respiro atman atmosfera atman atman in tedesco respirare atmosfera sappiamo bene cos'è il mio atman la mia anima il mio soffio vitale è uguale a brahman è uguale al divino la tua casa in noi se voi leggete il Buddha voi trovate coincidenza tra isola del sé e dharma ecco le sue parole perciò siate un'isola per voi stessi prendete rifugio in voi stessi e non in altro e che la vostra isola sia il dharma che il vostro rifugio sia il dharma e non altro ecco la coincidenza tra isola del sé e dharma e che cos'è dharma è l'ordine cosmico Buddha non pensa a un dio personale ma non ha nessuna importanza adesso quello che è importante è un ordine più grande del singolo del singolo sé del singolo ego a cui l'ego collegandosi ritrova pienamente se stesso la tua casa è in noi mio Dio la tua casa è in noi l'isola del sé per il taoismo quindi ho parlato di hinduismo ho parlato di buddismo per il taoismo vi è un cuore dentro il cuore un testo il Neyè un testo bellissimo Neyè dice dentro il cuore un altro cuore racchiudi dentro il cuore un altro cuore è presente questo cuore dentro il cuore è pensiero che precede le parole questo è l'esperienza del divino del Dio è uguale le parole sono diverse ma l'esperienza è uguale secondo la tradizione confuciana nell'interiorità umana si attinge la presenza del tao dice la via è in voi il tao è in voi Socrate sperimentava la presenza di un elemento divino nella sua interiorità diceva in me si manifesta qualcosa di divino e di demonico è come una voce il daimonion di Socrate Seneca scrive a Lucilio Dio è vicino a te è con te è dentro di te Lucilio e Marco Aurelio ricordava a se stesso scriveva a se stesso non macchiare e non agitare il demone che risiede nel tuo petto il demone il daimon di Marco Aurelio ovviamente non ha nulla a che fare col demonio è il divino è l'angelo ecco l'angelo angelo vuol dire messaggero annuncio annunciatore ecco è il Dio è quello di cui parla è la tua casa in noi di cui parla Etihilesu va bene è Gesù che dice il regno di Dio è dentro di voi e Sant'Agostino che dice la verità abita nell'uomo interiore e si rivolge a Dio nelle confessioni dicendo tu eri dentro di me più del mio intimo lascio le ultime parole a Etih sono prese dal suo diario e dice così dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio bene io penso che noi abbiamo molte ferite lei è stata un balsamo per molte ferite lo è tuttora la nostra ferita è il non senso è l'assurdo è il pessimismo è la sindrome negativa rispetto a noi esseri umani pensare che dentro noi dentro di noi se la sappiamo scoprire e coltivare e proteggere c'è una sorgente molto profonda voi la potete chiamare Dio la potete chiamare natura come faceva Spinosa Deus vive natura natura naturans non la natura naturata quello è ovvio la natura naturata è il cuore di carne ma la natura naturans ciò che sempre fa sì che l'essere ci sia la potete chiamare in questo modo la potete chiamare come vi pare non è passato il tempo delle etichette dell'importanza delle etichette è giunto il momento dell'esperienza un tempo la spiritualità si viveva sulla base delle etichette delle appartenenze bisognava essere di qualcuno è finito quel tempo lì adesso è nato sta sorgendo il tempo dell'esperienza di toccare con mano poi chiamatela come vi pare ma sapere che esiste dentro ognuno di noi una sorgente molto profonda beh questo è un balsamo per molte ferite grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti